Ecco fatto! Goofu Panda 3! Solo stasera sta qua! Manca solo il terzo a checco! Scali! Non credo di poter! Ragazzi! Cominciate senza di me! Io vi raggiungo! Che pacchia! 15 metri di altezza solo ieri sera l'ho fatto! Pace interiore! Pace interiore! Mi pizzica il naso! Finalmente! Pace interiore! Ora che c'è? Kai! Vecchio amico! Maestro Ugwey! La nostra battaglia è terminata 500 anni fa! Beh, ora sono pronto per la rivincita! Ce ne hai messo di tempo! Sei diventato più forte! 500 anni nel regno dello spirito! Qualcosina la impari! Ho preso il C di ogni maestro qui! No! Sì! E presto io avrò anche il tuo potere! Quando è che capirai? Più tu prendi meno hai! Ok! Stacco! Il tuo C sarò finalmente in grado di tornare nel mondo dei mortali! E questa volta tu non sarai lì a fermarmi! No! No!